Battipaglia da diversi anni ha una certa decrescita sul piano sociale e culturale. Noi ne parliamo con Daniele Limoncillo, candidata con il PD e con candidato a sindaco Antonio Visconti. Il mio malgrado, devo sottolineare quello che tu anticipavi, che Battipaglia negli ultimi anni ha avuto una debacle sempre più forte per quanto riguarda il settore culturale e anche sociale. Facevo una riflessione oggi, proprio osservando la bella manifestazione bellizzese che si è tenuta nei giorni precedenti e che vede protagonisti, insomma, grandi nomi della scrittura, non ultimi anche il nostro concittadino Marco Nembo, che ha avuto un riconoscimento proprio ieri sera, a cui il nostro candidato sindaco Antonio Visconti ha preso parte. Facevo questa osservazione anche con degli amici, proprio questa mattina. Che bella iniziativa, che bel vento di rinnovamento, che bella emozione, che bel fermento. Che cosa manca alla nostra città per poter creare e consolidare degli eventi culturali che abbiano un seguito nel tempo, che abbiano una tradizione? Credo che questo sia un elemento fondamentale, anche con la partecipazione magari delle scuole, delle innumerevoli attività, associazioni culturali, teatrali, artistiche che noi abbiamo in questa città. E credo che questa è una cosa inevitabile che debba accadere per non favorire ancora di più quella che è l'involuzione della nostra città.